Controlli sempre più fitti sulla Movida Aquilana, gli esiti si fanno sentire. Otto patenti ritirate, sei denunce e varie sanzioni amministrative a giovani che per arrivare al centro percorrevano strade in controsenso. L'operazione è stata messa in campo dai carabinieri della Compagna dell'Aquila, diretti dal capitano Francesco Nacca, nella notte appena trascorsa. 16 militari impiegati su tutto il territorio e nei luoghi della Movida Aquilana, obiettivo la prevenzione e repressione dei reati in generale. Nel corso dei controlli sei le denunce, due per guida e stato di ebrezza, una per ubriachezza in luogo pubblico, due per lesioni personali ma non queste nei luoghi della Movida e una per tentato furto di una vettura nel comune di Montereale. I militari del capitano Francesco Nacca nel corso della notte hanno controllato, grazie al nucleo antisofisticazione, anche tre locali notturni, sanzionati poiché sprovvisti dell'apparecchiatura per la rilevazione dell'alcol test.